Terzo posto in classifica più 12 sul Brindisi quarto, finale playoff in cassaforte e ancora una piccola possibilità di giocarsi il match più importante della stagione tra le muramiche del Palasport. La Florigel Fuzzalandria dopo il successo all'ultimo respiro in quel di Altamura supera con un netto 5-1 il Fuzzalter Lizzi in un match casalingo disputato al Palacos ma è di Bisceglie per indisponibilità dell'impianto andriese. Ottima la prova del roster allenato da mister Gigi Olivieri che soffre solo nei primi minuti, ribalta lo svantaggio iniziale e conduce in porto la partita senza patemi d'animo. Parte meglio proprio la formazione ospite con il diagonale di De Scisciolo che beffa Sinigaglia sul secondo palo per lo 0-1. Il quintetto bianco-azzurro non si scompone e somma sugli sviluppi di un corner ben piazzato sul secondo palo. Trova il tapin che vale l'1-1. Landria colleziona occasioni su occasioni e nel finale di frazione affonda il colpo. Il brasiliano Bruno Rosso dopo una splendida azione corale firma il 2-1. Poi prima del riposo è lo spagnolo José David su tiro libero a realizzare il 3-1. Nella ripresa è sempre Landria a condurre le danze con il Ter Lizzi costretto a difendere e provare a pungere in ripartenza. Bruno Rossa a metà tempo si mette nuovamente in proprio e con una precisa puntata in fila a panunzio per il poker. La girata di Roberto Sasso a 6 minuti dalla fine vale il definitivo 5-1 risultato che fa iniziare la festa sugli spalti per l'importante traguardo raggiunto. Prima della finalissima playoff contro il Fuzz al Barletta manca però l'ultimo atto della stagione. In programma sabato prossimo sempre sul gommato del Palacosmai quando i bianco-azzurri di Olivieri affronteranno i padroni di casa del football 5 bisceglie. Un match che mette in palio tre punti fondamentali per capire chi tra Andrea e Barletta ospiterà la finalissima che vale una fetta di Serie B.